Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Aigolia Allora, vi spiego un attimo la situazione Questo video l'ho registrato dopo aver finito la pescata feeder Ho detto, tanto sotto è pasturato La canna da feeder l'abbiamo piegata fino al manico, è proprio bene Quindi se provassi a prendere gli storioni con la mosca, con il pellet finto Primo funzionerebbe Seconda cosa, la canna resisterà Dunque ragazzi, se questo video supera i 120 like Abbiamo pensato a un'idea malata, fuori di testa Vi dico solo, scinautico e storioni Non dico altro Dunque mi raccomando ragazzi, lasciate un like, condividete i video, iscrivetevi al canale Se non siete ancora iscritti Le pretese sono tante, quindi è gratis Cliccate qua sotto se è da posto Non dico altro, via con il video Grazie a tutti Oh si va fin meglio a mosca? Si va meglio a mosca? Ti va male? No no Tranquillo Qui si sentono a tre chilometri Dai, vieni Ah Ah questo rione non viene su si che con le trote non avevo tutta questa difficoltà non lo vedo l'ho preso a occhio ero pronto via Belia Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci ho capito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vedo la coda che va un po' troppo avanti per essere solo vento. 7,8 penso di sì non mi ricordo. 10 sì. Grazie a tutti. Non lo so. Appunto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.